buona domenica benvenuti su il canale oggi condizioni meteo proibitive era prevista pioggia nel weekend ma al tempo quindi abbiamo deciso di fare un giro intorno a casa non lontano da casa siamo in un luogo tristemente storico vero? si più che altro tristemente noto per il discorso dell'uccidio del padrone del fucecchio operato da ovviamente tedeschi della seconda guerra mondiale e qua vicino c'è un cippo in ricordo delle vittime delle vittime che sono state molte ovviamente il padrone di fucecchio non è solo questa parte qui siamo nelle zone di stabbia narciano anchione ponte bugianese insomma si disloca un po in più parti diciamo bisogna ricordare questi luoghi dimenticati perché purtroppo la gente dimentica si dimentica e a mio parere se uno non ha memoria storica non va da nessuna parte perché ovviamente gli errori che hanno fatto durante la storia si ripetano sempre e non va bene quindi a memoria storica prima di tutto informarsi dopo vi facciamo vedere sono qua vicino ovviamente c'è anche la Medea con noi eh Medea Medea saluta ben sempre con noi trekking tutto passeggiate tutto non si può sempre stare sul divano anche se ora siamo su una panchina comunque a tra poco ciao mi piace 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 buongiorno chanel no 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 Grazie a tutti.